Buonasera ragazzi! E andiamo! E andiamo! E siamo in finale! E siamo in finale! E siamo in finale! E andiamo ragazzi! Cazzo! Mamma mia ragazzi! Che sofferenza questa sera! Che sofferenza questa sera ragazzi! Ma siamo andati in finale! Eeeh! Contro la Spagna siamo passati ragazzi! Che sofferenza! Mamma mia! Vincevamo 1-0 con il gol di Chiesa nel secondo tempo! Poi è pareggiato Morata e poi siamo andati ai calci di rigore! Nella Spagna disorza di eroi di Dani Olmo e di Morata su una parata di Donnarumma sui gol di Morata! E poi nell'Italia! Noi azzurri la decidiamo con Berotti, Bonucci, Bernardeschi e Giorginio! Che ci portano in finale! E andiamo ragazzi! E adesso in finale! Crediamoci ragazzi! Crediamoci in finale ragazzi! Crediamoci ragazzi! Cazzo! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Cazzo! Bene ragazzi! Con questo è tutto! Vi auguro una buonanotte! Iscriviti al canale YouTube e se ti rimane su Instagram su Zebra, tatirobazzo, bianconera! E se vi specialmente sulla pagina Facebook di Zebra Bianconera! Forza azzurri! E fino alla fine forza Juventus! Buonanotte a tutti ragazzi! Ciao!